Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati qui su questo canale. Come dicevo nella scorsa, tra ugolette e puntata, andiamo a Levens Night, vediamo cosa succede, cosa chiacchieriamo con Maria di cosa, non lo so, comunque direi di recarci immediatamente sul posto perché se no abbiamo appena preso questa chiave, quindi andiamo e se non sbaglio il cancello era esattamente qui, molto bene, James usa questa chiave, grazie, brava, ora dove andiamo, giù di qua, Maria, dove giù di qua, di qua, su di qua, casaforte, portone, notte, ah, ecco, la sotto Levens Night, notte del paradiso, dai, Maria, dai, non fare la figa, andiamo. Io non so se girarmi la città con Maria nel frattempo, oppure non ci, no, vabbè, qua è chiuso, oppure non ci fa andare da nessuna parte? non lo so, io direi che è di qua, ci giriamo, dimmi. già teatro riveri, vabbè, io direi di, vado di qua, vediamo cosa succede. no, hai finalmente ragioni. oh, munizioni, vedi perché voglio girare, perché così mi prendo le munizioni, così ci prepariamo per quello che ci aspetterà all'ospedale. qua non si va. ma, ah, lì c'è il tubo, mi riodo e poi prendi il tubo lì, il tubo di ferro, ora non so da dove si ci va, ma poi lì si prende il tubo di ferro. sì, si prende il tubo di ferro lì. acqua è tutto chiuso, quindi... no! che è successo? miуки, mi sono solo, sono sempre il fine, non è successo. oh, oh! 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 oh oh! 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 Carina sta cosa Madonna Andiamo Maria Maria Ah di qua stai andiamo Maria va Porca madonna Via via Maria Via 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 Maria entra Ma porca puttana tu maledetto Ma vaffanculo va Madonna che palle Maria andiamo 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 vai Maria vai Maria Maria Mortacci tuoi Vaffanculo Madonna Madonna che cazzo quanto ti rompi Vaffanculo va Andiamo Maria Arrivo Che palle Poi di punta in bianco ste cose no Adesso spariti tutti Che mi ero riuscita a raccogliere un po' di bibite Poi 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 Oh, no. Grazie. Madonna che bel posto mi hai portato Maria, madonna, sei un cacchio Maria, Maria, sei andata, Maria, ah lì sei. Ma la smetti di nasconderti, ma porco giù da quella lì, cosa fa? Si sta preparando per uno spoglierello? Vabbè io vado di qua, c'è a morire, madonna che mi son cagata addosso stronza. Questo? Quindi di là sicuramente si è chiusa, lei. Allora io avrò qua, bevandina, grazie. Allora se io vado di qua, lei si è chiusa allora. Infatti. Sei andata, ti sta preparando lo spettacolino. Ciao pupi. Maria? Maria? Ehhh. Ok Solo bisogna andare all'interno e andare all'interno. E poi ancora. Ora che siamo qui, possiamo rimanere? Solo per un po' di tempo. Attraverà il nostro cuore prima di tornare fuori. Non ho tempo per prendere un break. Mary può essere fuori, chiedendo per me. I know. È solo... questo paese, questo tutto, è come un sogno. È solo un sogno. Voglio riuscire da un po' di tempo. Ma scusate. No, è bene. Ma scusate. Non mi senti. Credo che questo paese è arrivato a me, anche. Non mi senti. Ero. 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 Ero ma cliniciani. Ero. Sem chiedere ad aver scusato. Ero. Ero a Livermore. Ero. re. Ero. BABBYE Here's to To hope I'm dying We should probably get going Fine Nooo, I wanted to go to Leaven's Night a little bit Carina this scene, I admit These things are very, very nice Ah, these objects are broken Ok Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Madonna, io adoro la musica Allora, boh, ti amo Maria Madonna, io volevo stare ancora qui, non voglio andare al Brookhaven Boh, allora Eh, là c'è Brookhaven Hospital Che sono sti rumori? Ok, non è l'interno ora Sì poi alla fine io sapevo tiravo dritto al netteneven io ho sbagliato e non ho tirato dritto magari succedeva qualcos'altro ok qua è chiuso ah di qua si va eh andiamo di qua qua è chiuso non capisco maria ma dove mi stai portando? non è che puoi portarlo non capisco eh ma ho supposto mi è nuovo non capisco non capisco Chi è lei? 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 E lui? E ogni giorno lei stiava qui, suonando una città per aiutare la scuola per il suo modo. Ma questa una niente una scuola di scuola che lo scuola e lo scuola and it blew out the candle even in darkness the man would not give up he would not turn back so he fought against the raging waters until finally the lake took him they say even then the woman never lost hope she kept coming out at night kept lighting the candle to bring her beloved home to lead him to shore not sure how much truth there is to it it's probably just a fairy tale but she's become something of a local saint patron of undying love hence this place she's not here what she's not here and why would she be i don't even remember this place this was a mistake i shouldn't have come here hey it's okay there's plenty of other places to look we can still come on hmm allora questa è una cosa del tutto nuova andiamo maria maria andiamo i think it came from inside the theater teatro questa è una cosa nuova you okay yeah maybe you better wait here okay not much of a movie fan anyway and james yeah be careful in there yeah this is boring you didn't seem bored a minute ago screamed your head out didn't you should have seen your face i told you it was this big rat took right out and come under the seat i would have screamed too if you saw it you got this fatso hey what do you have to say that hmm anyway why are you sitting here i thought you said the cops were after you nah i don't think they followed me here besides i blocked the door so no one could get in not the cops and not these other monsters you're weird yeah that's what everyone always says well i guess people call me weird too and they yell at me especially when i do something bad did you do something bad you know so the cops are angry with you i don't know maybe so why don't you just say you're sorry it always works for me they wouldn't listen nobody ever listens madonna cioè ora bullying l'hanno cambiato nel teatro ma il discorso è uguale porco giuda i altri cessi altri cessi altri cessi altri cessi forza 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 urlo no non si urla allora allora altri cessi jamscare qui urlo no urlono anche qui forse era nel nell'ospedale l'urlo eddie che schifo che schifo non Sì, non mi sono mai riusciti a questo. At least hai avuto l'appetite. Sei qui solo qui, Eddie? Non... What the hell? That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. What the hell are you doing, Eddie? Not for things, but... Look at how happy she eats. You didn't want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to... Suit yourself. Basta, ho esaurito le linee di dialogo. Boopie... Boopie... Boopiee... Laura? Laura, dove ti secano? Cacciata Laura Ciao Puppi! Vuoi salire? Sali, vieni! Vai! Sali! Sali, vieni! Vai più casino, no? Vieni! 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 Vediamo ora la prossima volta come va? Vi invito a iscrivervi al canale, mettere like e ci vediamo domani con l'altra parte e la continuazione. Ciao! Vieni! 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 Vieni!